Lei chi è? Oh, è la mia adulta responsabile, Tamara. Tamara. Salve. Salve. Beh, ce l'hai fatta. Hai preso il killer e abbiamo recuperato quasi tutti i soldi. Quasi? Mancava parte della rifurtiva. Wilcox dice che li hai presi tu, ma li avrà nascosti. Io cercherei un complice, è un colpo difficile da fare da soli. Lo cercheremo. Oh, a proposito. Il tuo ultimo stipendio. Questa è la mia paga. Non lavori esattamente per i soldi. Beh, mi ha dato soddisfazione acciuffare qualcuno che si credeva più furbo di me, ma non abbastanza da voler restare, certamente non per questi. Va bene, fammi sapere se cambi idea o se ti torna alla memoria. Lasciamole chiuse, certe porte. Ah, un'ultima cosa. Volevo solo ringraziarvi. Abbiamo condiviso dei... bei momenti, ma non sono qualificato per commentarli. sono venuto solo per una toccata e fuga. Ciao. Aspetta. Quello sembra vero. È vero. Allora non stavi mentendo. Gli hai presi tu. Wilcox non sta mentendo. Gli hai presi davvero. Non ho idea di cosa tu stia parlando. La mia nuova vita mi aspetta. Quando hai preso i soldi? Ah, ti prego, che differenza fa? Insomma, siete voi i ladri qui. Guardate questo assegno. Potremmo farti arrestare per furto. Non c'è giuria al mondo che mi condannerebbe. Sono fuori di testa. Chiedete al mio dottore. Tu stai scappando. Di che cosa parli? Stai cominciando a sentire qualcosa dentro e non sai come comportarti. Sono sciocchezze. Provalo. Fatti un giro con me e poi, se ancora vorrai andartene, sarai libero di farlo. Bella casa. Di chi è? È tua. Dammi le chiavi. Ok. 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 Sì, sì. Sì, sì. Mi dispiace.